Era l'ultimo spettacolo di Gino Bramieri che si chiamava Riuscire a farvi ridere, che era un po' la storia dell'avaspettacolo, la storia della comicità, si rideva moltissima, era uno spettacolo molto bellino, molto bello, ed è stato l'ultimo spettacolo di Gino. Poi è partito per Milano, dovevamo debuttare a Lirico a Milano, abbiamo fatto le prime 3-4 repliche, poi lui si è sentito male, ed è andato ad ingrossare quella meravigliosa compagnia teatrale che è stata lassù, lassù, vicino a lui che fa la voce di lassù. Per cui non vi preoccupate. Il giorno arrivo anch'io con voi. Finché posso ci rimango qui, ma poi so che farò bene insomma, con tutti voi. Mi farò la spalla, anche lassù. Mi voglio bene. Grazie. 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 Grazie.